Bella a tutti ragazzi abbiamo trovato in questo nuovissimo video, oggi siamo qui tra i supporti e siamo qui perché andremo a vedere le nuove chest che hanno introdotto con la patch 22.10 Perché si con questa nuova patch hanno introdotto un nuovo metodo diciamo di apertura, anzi un nuovo modo per avere del loot In questa stagione abbiamo i nuovi cavò che sono quelli dentro, magari dentro dei posti nascosti o anche dentro le mongolfiere Che sono dei cavò che si aprono con delle chiavi nuove che non ci sono messate su fortnite, le chest normale, gli airdrop, vabbè le solite cose Ma hanno introdotto un nuovo tipo di chest e questo è molto interessante, lo andiamo a vedere oggi insieme E' molto interessante perché ha una meccanica veramente carina, ancora non ho provato del tutto, anzi l'ho solo vista ma ancora non ho provato Ma adesso andiamo a vedere insieme Ora non so dirvi ragazzi perché sto registrando subito dopo l'arrivo, c'è l'inizio, l'attività dei server scusate Non so dirvi ora dove si trovano tutte queste chest nuove Non so manco se la troverò io, io so solamente che la ex Condotti se ne trova almeno una di quelle chest Aiuto mi ammazzano, però ancora non l'ho trovata e quindi non so dirvi Io raga, allora, io mi sto incavolando Forza insedimi dove cavolo hai messo queste chest per favore Non voglio stare qua a cercarle tutto il tempo Io ho visto da delle immagini che qui ha condotti, ha le ex Condotti Ci sono, ok, quindi Se c'erano nell'immagine Tra l'altro raga, ma c'era, cioè ora c'è il reboot Ma prima a Condotti Confusi c'era un reboot? Sapete che non lo so Io raga ho letto che c'era Queste nuove chest Oddio mi sono spaventato da spaventapasse Che c'erano, eh, queste nuove... ma rega nooo Hanno bloccato qui l'entrata Oddio Ricordate che qua dentro si entrava dentro la miniera? L'hanno bloccata Peccato Non pensavo Allora, a Tana qui ci sono Però Vi spiego L'ho capito adesso Queste chest si chiamano Tipo chest holo Sapete perché? Perché sono degli hologrammi Diciamo, ok? Ora, metto preparati e rientriamo Sono... per farvi capire degli hologrammi Ah, perché... perché... sapete perché stanno timmando Perché ho messo coppia Perché è singolo, non mi fa giocare Le chest si chiamano Oloforzieri Questi forzieri Sono appunto Praticamente degli hologrammi Dove bisogna trovare le chiavi Ok? Quindi appena avremo le chiavi Per aprire i cavo Che ci sono in questa stagione Potremmo trovare questi oloforzieri Il punto è Io, questi oloforzieri Dove cavolo? Cioè, dove cacchio le prendo mo le chiavi? Io non ce la farò mai Ma come si fa? Ma come... Ma che cavolo? Vabbè, comunque Ehm... Vi volevo dire anche una cosa importante Che non mi ricordo già più Ehm... Come cacchio si dice? Non me lo ricordo, ragazzi Niente, vabbè Sì, cavoli Ve lo dirò un altro giorno Tranquilli Ve lo dirò un giorno Era importante Ma non me lo ricordo più Comunque Torniamo a Timpani Terribili Veramente è un nome terribile Però la città mi piace Mi ricorda proprio Città stile capitolo 1 Non so perché È proprio Tipo Una casetta Abbandonata È proprio una Ragazzi È una città Per Halloween questa Ovviamente Mi ricordo che il Fortnite Nightmare si inizierà il 18 ottobre Ovvero l'evento di Halloween Vi farò un video dove vi spiegherò tutto È proprio una casetta Con gli spaventapasseri Il fieno Cioè È proprio una Tipo una fattoria Ehm... Impestata dai fantasmi Ecco Una fattoria fantasma Ecco Non mi veniva in mente il termine Mi piace Poi qua accanto c'è il dirigibile Quindi è veramente Un bel posto Comunque per atterrarsi Allora Ad occhio Secondo me Proprio ad occhio La città Sembra Più piccola di prima Ok E vi spiego il perché Perché Condotti Aveva Questa particolarità Ovvero che c'era delle casette Sopra Ok In superficie Però tu potevi entrare dentro Quindi andavi sotto la mappa Praticamente Tu entravi dentro Alle miniere E dentro c'era un sacco di loot Ora La zona sotterranea L'hanno bloccata Con dei sassi Che non si possono spaccare Quindi Ora Comunque Raga Devono Allora Scrivetelo nei commenti Se ho ragione Devono mettere un NPC Che vende le chiavi Ok Perché non è che ogni volta Devo trovare le chiavi Ma vi sembra normale Che ogni volta Mi devo metterli E cercare Cercare E che cacchio Dai dimmi Qua dentro Questi due C'è Oh ci sono tre ceste Qua sopra Vuoi dirmi che Nemmeno in uno di voi C'è una chiave Dai eh Dai Una chiave La porca di quella vacca Veramente Me ne vado eh Dai Dammi una chiave Non mi fare incacchiare Perché Dammi una chiave Non ti ho chiesto Tu levati Levati Maximilian Levati Vabbè Sta lì Dov'è la chest Qua so Ok bravo Ti sei levato Grazie Grazie Un'altra chest Dai La chiave Sì Sì Grazie a Dio Grazie Ecco Vedete Non vedete niente Ma io sono Ma perché non mi appare L'ologra Ah non mi dire Che servono due chiavi Perché di quella vacca Allora Io so solamente Che servono le chiavi Ok Non so dirvi altro Scusatemi Sì Dovrei saperlo Ma non lo so Saliamo qua Dammi un'altra chiave Ti prego Niente Vabbè Me l'ha già data una Basta Non voglio più nulla Basta Grazie 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 Vaffanjul Grazie Andiamo via Andiamo su E andiamo E andiamo a Anzi Posso dirmi una cosa Qua ci sono due chiavi Ora Io non me lo ricordo mai Nella vita Se qua c'erano due cavò Io so che ce n'era uno Non ce n'erano due Quindi l'altra serratura Per favore Mi puoi dire che sono Le casse ologramma Grazie Dai Allora forse ho sbagliato Non erano dove dicevo io Vabbè Ti prego dimmi che è così come dico io Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Qua non mi sembra di vedere nulla Oh Ok Dimmi che è come dico io Eccole Uhuh Trovate Mamma mia Ecco qua ragazzi Le ceste Ologramma Le nuove I nuovi forzieri Ologramma Uso una chiave Mitraietta Ah Ok No scusate Allora Vi servono delle chiavi Voi è casuale ragazzi Non è in ogni partita È sempre Uguale È casuale Appena prenderete una chiave Voi andrete in questi posti Che sono segnati nella map Per esempio A Stratto Sonorinto Non ci sono mai stati due cavò Voi andate lì In uno dei due c'è la cosa Nei posti in cui ci sono due serrature Nella stessa città O più serrature Vuol dire che c'è la cosa Ologramma Ok Non vi so dire i punti precisi Vedete ci sono queste armi Che sono un casual In ogni partita Cammero Voi con la chiave Potete andare a prendere L'arma che volete Quindi adesso io andrò A prendere il fucile a martello Però Vabbè andiamo a prenderla Vai Boom Aperta E Voilà Si apre il forzieri Ci dà Il Il fucile Dovevo farlo screenshot prima Ma sono un pirra Vabbè Poi le altre vi serviranno la chiave Per prenderla Spero che questo video Vi sia stato utile Per capire Come si aprono questi forzieri Iscrivetevi al canale Attenete la campanella E lasciate like E noi ci becchiamo In un prossimo video Bella